è meraviglioso ho comprato quello che chiamano il castello per i picciogatelli l'ingegnere qua che mi sta aiutando a montarlo, l'ingegnere, 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 i gatti la cosa stupenda è che insomma ci sono tutti i pezzi in giro, tutti i pezzi in giro, ormai prende forma, sta prendendo forma, sta prendendo forma e loro con che giocano? con il cartone, sono tutti e tre da dentro quelli piccoli, i tre piccoli sono da dentro io gli ho comprato il castello, mi riusciamo a montare, manco a dire di rodello e loro, sì forse ci stavano i genitori, ma loro lo giocano con la scatola secondo te i frecchia, stavo male? no, eh sì, ho male con il cartone, tanto valeva andare dal banco e far andare al cartone guarda, guarda che c'era, l'altro sta dentro, si messi qua, non si girano di mezzo che cosa è questo, viena l'altro grazie a tutti grazie a tutti